1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 Emergenza 112, ci mi dica Sono in piazza 11 febbraio a Colonia Monzese c'è una persona che sta male Salve 118, ci serve un'ambulanza al gazebo comunale ad Acre Ok ti mando ai soccorsi Salve 118, ci serve un'ambulanza al gazebo comunale ad Acre Salve 118, ci serve un'ambulanza al gazebo comunale ad Acre Salve 118, ci serve un'ambulanza al gazebo comunale ad Acre Salve 119, ci serve un'ambulanza al gazebo comunale ad Acre Salve 118, ci serve un'ambulanza al gazebo comunale ad Acre Salve 119, ci serve un'ambulanza al gazebo comunale ad Acre